Ciao ragazze! In questo video voglio parlarvi di tutti gli ultimi acquisti che ho fatto alla Lidl su tutti i prodotti Sien per il corpo, bagno schiuma, creme in mani, prodotti per capelli che ho trovato che sono delle novità è uscita anche una nuova linea che si chiama Sensual di cui ho preso ben tre prodotti volevo provarla anche se comunque ho capito che è una limited edition dovrebbe essere una limited edition come quella che abbiamo visto quest'estate quindi si proverò i prodotti però mi dispiace anche il fatto che poi effettivamente non li potrò ritrovare come è successo proprio per la maschera che avevo utilizzato durante tutta l'estate che poi non ho potuto più riacquistare perché non c'era più quella mi era piaciuta tantissimo, era una maschera per il viso in tubetto un prodotto addirittura l'avevo acquistato nel mio primo video vlog che avete visto quando sono stata all'apertura di H&M, se avete vi lascio nelle schede il link ho voluto prendere questi prodotti perché ho visto che ci sono di nuovi prodotti per capelli che dovrebbero avere un ottimo inci e che costano solo 1,20€ quindi vi mostro tutto e vediamo insieme tutti i prodotti e niente iniziamo! voglio iniziare proprio dal prodotto che ho acquistato quando ho fatto quel vlog anche perché è il prodotto più vecchio tra quelli che ho acquistato considerate che tutti questi prodotti li ho acquistato nell'arco di un masetto questo è un shower gel, quindi un gel per la doccia alla magnolia con perle di olio all'interno che vedete qui sono queste cose gialline, non so se le notate non lo so, mi piaceva tantissimo l'idea a me piace tantissimo la profumazione della magnolia è uno dei pochi fiori di cui mi piace la profumazione perché se acquisto dei prodotti che hanno delle profumazioni di fiori devo stare molto attenta perché se è una profumazione molto persistente a me non piace, mi ricorda troppo l'odore dei fiori al cimitero non lo so, quindi non mi piacciono più le profumazioni dolci, sì un po' fresche però meno quelle che sono troppo fiorite comunque questa mi è piaciuta subito all'interno ci sono 200 ml di prodotto a 12 mesi di pao qui dice che dovrebbe avere un avvolgente profumo di magnolia in fiore però è una sensazione piacevole sulla pelle dice che è dermatologicamente testata non lo so, l'ho voluto prendere perché aveva questa novità delle perle così di olio all'interno mi sembrava molto particolare quindi l'ho preso per quello anche se come sapete non ho bisogno per niente di prodotti beauty soprattutto di bagnoschi ma che ne ho tantissimi però alla fine era una novità, costava poco e ne ho approfittato poi ho preso appunto tre prodotti per i capelli che vi ho detto che li ho visti proprio tra le ultime novità e dovrebbe essere della linea Natur's Beauty questa dovrebbe essere invece una linea permanente sono degli shampoo che dovrebbero avere un inci buono all'interno ci sono gli oli vegetali questo è con olio di oliva mediterraneo per capelli nariditi e sciuppati diciamo che tra i tre presenti io li ho presi tutti e tre però questo era quello che volevo prendere a meno perché la profumazione dell'olio di oliva mi piace tantissimo soprattutto mi piace tantissimo sui capelli però alla fine l'ho voluto prendere praticamente qua dice che con l'utilizzo i capelli recupereranno l'oro naturale splendore saranno soffici, nutriti, facili da pettinare e visibilmente brillanti quindi l'ho preso per quello appunto la profumazione secondo me non è una delle migliori anche se comunque ci sono molti prodotti per capelli che hanno questa profumazione però non è di quello olio d'oliva che dà molto fastidio però ho sempre paura quando i profumi non mi piacciono tantissimo comunque all'interno ci sono 300 milioni di prodotto 12 mesi di paura per 1,20 euro secondo me ci arriva di tutti adesso vediamo però come sono le performance poi ho preso un altro che mi piace tantissimo la profumazione perché è quello con miele di manucca sapete che mi piacciono tantissimo i balsamo d'ultra dolce al miele quindi ne ho approfittato magari li posso usare anche in combo questo con estratti naturali per capelli fragili che si spezzano e io ho capelli fragili che praticamente mi cadono molto facilmente soprattutto in questo periodo e quindi questo può essere davvero utile qua dice che i capelli risplenderanno della loro naturale bellezza saranno più forti, protetti, facili da pettinare e molto più morbidi anche questo ha 300 milioni di prodotto all'interno e ha 12 mesi di paura e il terzo naturalmente mi ha colpito subito perché insieme a quello del miele questo è quello all'olio di argan che sono praticamente i due ingredienti che mi piacciono tantissimo ha un ottimo profumo anche questo ha olio vegetale all'interno questo è per capelli secchi e spenti siccome nel periodo invernale soprattutto novembre, diciamo, gennaio ha capelli che si seccano ancora di più quindi questi possono essere molto utili per renderli molto più morbidi molto più lucenti facili da pettinare quindi l'ho preso per quello qua dice che infatti con l'utilizzo di questo prodotto saranno più morbidi, facili da pettinare e visibilmente brillanti sto leggendo inoltre che ci sono anche i balsamo della linea Sienna Tours Beauty che in realtà io non l'ho visto non l'ho ancora portato almeno io sono stata in uno dei Lidl che ci sono qui in Sardegna nella provincia di Cagliari e sono andata due volte sempre nel nostro suo Lidl quindi magari anche nell'altro Lidl che non è lontano potrei fare un salto a vedere se c'è il balsamo comunque anche questo ha 300 milioni di prodotto 12 mesi di Pau poi per le mani ho preso questa crema che non ho mai provato della Sien si chiama Madame Glamour and Cream qua dice che all'interno c'è olio di Argan e il burro di Karité all'interno ci sono 75 milioni di prodotto e 12 mesi di Pau sapete che io sono fissatissima con la crema per le mani che di solito quando sono molto grande l'utilizzo prima di andare a letto mentre in borsetta tengo sempre una di quelle da 30 ml di Brochet sono le mie preferite di solito tra quella alla vaniglia quella al mango preferisco quella al mango perché mi piace la profumazione sono delle creme mani molto più leggero rispetto magari a queste che posso utilizzare sul comodino che utilizzo prima di andare a letto e sono più facili da assorbire perché utilizzandole comunque in giro ho bisogno di qualcosa che si assorba molto facilmente mentre queste appunto le faccio prima di andare a letto appunto della collezione Sensual ho preso tre prodotti due sono creme mani mentre uno è un prodotto per il corpo ed è un'acqua profumata in realtà ce n'erano due presenti collezioni ma ho trovato solo questa avrei voluto provare anche l'altra ma non era disponibile e quindi mi sono arrangiata con questa questa è quella all'estato di sesamo qua dice che è Oriental Beauty il dosatore è questo qui è una fragranza fresca e mistica così o meno viene indicato nella boccetta all'interno ci sono 150 ml di prodotto e ha 12 mesi di pau sapete che ho tantissime acque profumate che io amo più le due profumate rispetto ai profumi sto cercando di smaltirne qualcuna perché comunque ne ho tantissime comunque ne sto terminando abbastanza ne avete visto che ne ho terminato anche nei prodotti finiti però alla fine quando trovo qualche offerta per i dei prodotti del genere li acquisto sempre diciamo che di questa collezione c'erano anche dei prodotti per il corpo creme corpo che non ho preso perché ne ho tantissime anche dei bagnoschiuma dei dolci a schiuma con gli oli però alla fine non li ho voluti prendere ho preso solo oltre a quello queste due creme mani una è questa qui questa dice che è con l'olio di mandorla e il fiore di ciliegio giapponese qua viene indicato come Asian Spirit dice che è un balsamo mani arricchito con olio di mandorle che rende le mani morbide velutette e profumate all'interno ci sono 70 ml di prodotto e 12 mesi di pau in realtà questo non è neanche tanto grande da portare in borsetta però così sicuramente lo utilizzerò sul comodino perché preferisco quelle che occupano molto molto meno spazi perché come sapete io ho alcune borsette grandi però di solito preferisco quelle piccole e poi ho preso questo che è all'olio di sesamo esattamente come l'acqua profumata che abbiamo mostrato prima qui dice che orienta il beauty anche questo è un balsamo mani arricchito con burro di karité anche in questo ci sono 70 ml di prodotto e a 12 mesi di pau e niente fatemi sapere cosa ne pensate di tutti questi prodotti cosa avete preso ultimamente della Sien se avete visto questi nuovi shampoo questa nuova linea in edizione limitata cosa avete preso voi se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto ciao